Non solo città, non solo strade centrali, l'attività di chi sporca e devasta l'ambiente non conosce purtroppo soste. Prosegue l'attività di monitoraggio del territorio del nostro telegiornale e sulla base delle indicazioni degli spettatori. Stavolta la segnalazione arrivata in redazione riguarda la periferia della città e precisamente la rotatoria nei pressi della base navale di Chiapparo e le aree circostanti. Le immagini filmate da Francesco Manfuso non lasciano dubbi. Le zone vicine allo svincolo con rotatoria realizzato e concluso dalla provincia di Taranto nel 2006 per collegare Viale Ionio alla nuova base navale e alle borgate di San Vito e Lama si sono trasformate in una vera e propria discarica a cielo aperto. Non manca davvero nulla, parti di mobili distrutte e inutilizzabili, rifiuti abbandonati da chi non rispetta la differenziata, materassi, ceppi di legname, sedia a sradio in plastica e persino una culletta abbandonata. Un autentico brobrio insomma che mortifica l'immagine di una comunità tesa al cambiamento. I cittadini che ci hanno contattato chiedono la pulizia dell'intera area e una maggiore sorveglianza della zona per impedire che un simile scempio divenga alla regola e non l'eccezione.